Un saluto a tutti voi da parte del Gianni Pellis, in Italia, vorrei sentire così un grande applauso, un granimento per tutta la musica fino a questo momento, e un applauso per chi sape che è crescente nelle scale di questa cosa, e così a cambio questa speciale notte, il 7 agosto del 2010, di nuovo insieme, insieme, per ricreare la magia dello storico documento, a festeggiare insieme anche il compleanno di stare insieme, a cambio in console da questo momento, io lo chiamo questo remoto, ma in verità lui si chiama, Alessandro Donietti, Vizze! 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 fino a toccare la vostra stella e poi ancora più di su fino ad accarezzare il volto di Dio non fate cerchi se no la luce rimane a cerchi non vincere 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 non vincere